Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Come sapete l'8 luglio il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso che abbiamo presentato contro l'eleggibilità per il quarto mandato consecutivo di Roberto Formigoni. Sono state depositate le motivazioni. Innanzitutto fughiamo ogni dubbio sulla tempestività del ricorso. C'è qualche partito che sostiene che il ricorso andava presentato successivamente, cioè quando la Giunta avrebbe convalidato le elezioni. Ebbene, il giudice è sceso nel merito delle nostre motivazioni, pertanto il nostro ricorso era perfettamente presentato e ammissibile. Ma andiamo a capire che cosa ha deciso il giudice. Il giudice, in sostanza, si è fermato solamente sulla questione della immediata applicabilità della legge nazionale. La legge nazionale, appunto la 165 del 2004, prevede che le regioni si dotino di una loro autonoma legge regionale e all'interno di questa legge devono prevedere alcune cose. Uno di questi principi era appunto quello della immediata non rieleggibilità di chi ha già svolto due mandati. Secondo il giudice questa norma non è immediatamente applicabile, ma deve trovare una normativa regionale che la recepisca. Ebbene, sebbene ci siano queste indicazioni da parte del giudice, a un certo punto della sentenza, nelle parti conclusive, nella sentenza 9052 del 2010, questa qui, alla penultima pagina il giudice afferma quanto segue. Ritiene conclusivamente il Tribunale che l'articolo 2, lettere F, nonostante contenga un precetto chiaro, determinato ed univoco, non possa ritenersi norma immediatamente precettiva, avendo il legislatore statale espressamente qualificato in termini di principio generale, a cui dovrà tenersi la normativa regionale successivamente emanata. Questa conclusione non risponde al rilievo del ricorrente, cioè non corrisponde al nostro rilievo. Peraltro, di evidenza del tutto condivisibile. Ecco, qui il giudice si spinge avanti e condivide il nostro ricorso, le motivazioni, pur non potendo far nulla perché la legge non gli dà questa opportunità, condivide il nostro ricorso. E aggiunge anche queste parole. Peraltro, di evidenza del tutto condivisibile, circa l'inquietante anomalia di un sistema che permette alle regioni di non dare applicazione a una così esplicita indicazione del legislatore nazionale, semplicemente astenendosi da legiferare. In sostanza, la regione Lombardia, semplicemente per il fatto di non aver legiferato in questi sei anni, dal 2004 a oggi, ha potuto omettere l'applicazione di un principio generale, chiaro, compiuto, perfetto, che era appunto quello della non immediata rialegibilità dopo il secondo mandato. Al di là degli apprezzamenti di opportunità politica e delle valutazioni di correttezza istituzionale, quindi il giudice ancora oltre, che esorbitano da questo giudizio, la denunciata anomalia segnala una falla del sistema, di cui non si sono dati carico né il riformatore costituzionale del 1990 e del 2001 né il legislatore statale nel 2004 con la legge 165 del 2004. Quindi per noi questa sentenza, malgrado il risultato negativo dal punto di vista del giudizio, è una grande vittoria, perché afferma che la nostra battaglia non era una battaglia campagnaria, ma noi abbiamo denunciato una falla nel sistema politico, un'anomalia, un'aberrazione in questo sistema, in quanto ad una regione, e quindi così come la Lombardia anche altre regioni potrebbero fare così, possono semplicemente non legiferando con una legge regionale, disattendere una norma di carattere nazionale, compiuta, chiara, perfetta, che dà delle prescrizioni molto precise. Ecco, questa è una falla del sistema, secondo il giudice e anche secondo noi, è un'anomalia inquietante, ecco anche secondo il giudice, ribadiamo, secondo noi. La nostra battaglia non si ferma, adesso valuteremo con gli avvocati se è il caso di presentare appello, se ci sono gli estremi, vi terremo informati di ciò. Loro non molleranno mai, noi nemmeno. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno.